Salute a tutti! Il mio nome è Mattia Prometeo e sono il profeta fatato del giardino che non c'è, destinato a salvare il mondo. Benvenuti nell'appuntamento quotidiano del giorno del calendario. Calendario filosofico, ovviamente! Oggi, 29 marzo 2021, questa è la frase, del giorno. Avete fatto in tempo a leggerla? No? Bene, tranquilli, non vi preoccupate, non mandate indietro il video, non stoppate nulla, ci sono io qui appositamente per leggervela. E allora? E oggi abbiamo un italiano, finalmente, dopo tante frasi ospitate, pronunciate da stranieri, finalmente abbiamo un italiano. Da notare che il nome dell'italiano rispetto agli altri nomi scritti in piccolo, come se il barone rampante, la sua opera, fosse più importante di Italo Calvino stesso. Beh, in un certo senso sì, perché è quello che predico sempre, conta molto più il messaggio del messaggero, perché il messaggio è vero indipendentemente da chi lo dice. E se no, cioè, che facciamo? Diciamo che una cosa è vera perché l'ha detto quello? Cioè, funziona per me, che sono profeta, le cose sono vere perché le dico io, le dicessi tu, non avrebbe senso. Va bene, tralasciamo, tornando a Italo Calvino. Se alzi un muro, pensa a cosa lasci fuori. Ecco, bellissima, una frase degna del calendario filosofico. Degna perché i muri noi inizialmente li facciamo pensando che possano tenere il nemico, il nemico al di là del muro. Poi ci scopriamo prigionieri del muro che abbiamo innalzato. E all'inizio il muro serviva a proteggerci dal nemico che viene dal fuori, dall'esterno, questo alieno, questo diverso che è il nemico. Allora io faccio un muro così il nemico non può entrare e poi scopriamo che in realtà ci siamo costruiti una prigione intorno. Per esempio, qua c'è una bella rete. Questa bella rete è stata messa per non far passare il sottoscritto, questo profeta. Questa rete è stata messa per tenere fuori me. Poi, se al di là di questa rete diciamo succede qualcosa, del tipo passa un qualche malintenzionato, oppure mentre c'è qualcuno da quest'altra parte della rete, magari il proprietario, che semplicemente, molto più semplicemente magari inciampa, cade, si fa molto male, ecco io non posso andare ad aiutarlo. E poverino, è caduto, lo lascio lì. La natura farà il suo corso, il suo corpo si decomporrà, verrà mangiato dai vermi e poi i vermi feconderanno la terra. E che vi devo dire? Ma hanno voluto tenere di qua e allora io non posso andare di là. E allo stesso tempo Trump ha voluto tenere gli messicani di qua e i messicani di qua, un altro poco, stanno pure meglio che di là. Ma poi questo, voglio dire, è sempre così, è sempre così. Cioè, costruire il muro. Costruire il muro è un ottimo modo per non affrontare il problema, perché se il muro lo costruiamo per non far passare il lupo, è perché in verità abbiamo pietà del lupo, povera bestia, ok? Perché il lupo prendi e lo ammazzi come si sta già facendo, tant'è che il lupo da che un tempo era un predatore, adesso è una specie protetta. E quando però poi il confine lo fai perché ti dà fastidio la barba del vicino, non peraltro, e accusi pure il vicino di essere un ladro di bergamotti, come se il vicino di bergamotti non ne avesse più di quanto riesca a mangiarne, e io me ne mangio due ogni giorno, e perdonatemi non ce la faccio a mangiare di più, ok? Ma lasciamo stare, che io qua mi perdo. I muri, oltre i muri ci sono i titani, i titani ti vogliono mangiare, e allora tu fai un muro, ok? Per tenere fuori i titani, poi scopri che i titani sono persone, e che tu stesso sei un titano, però io sto divagando in mitologia giapponese, ve la consiglio, bellissima opera, non tra poco, adesso è nella sua fase conclusiva, chissà come finirà, però io l'avevo detto, e comunque, insomma, è un messaggio semplice quello di Italo Calvino, ok? I muri nascono dal bisogno della mente di separare, perché quando la mente separa, pensa, crede, si illude, scusa, la mente separando con i muri, si illude di aver risolto problemi. In realtà i problemi, i muri imparano a scavalcarli, imparano ad abbatterli, oppure peggio, si infiltrano al di là del muro, si camuffano da uno della tua tribù e poi scopri dopo vent'anni che i problemi hanno sposato tua figlia. Ma quanti esempi potrebbero essere fatti? Va bene, non voglio farla, dilungarla più di così, mi sembra un discorso semplice, accogliete, non separate. E questo ve lo dice anche uno di quelli che è il problema. Detto questo, miei cari spettatori, io così come sempre di cuore vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo, se vi è piaciuto il video, di mettere mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di cliccare sulla campanella per ricevere la notifica di quando esce un mio nuovo video, se volete mettervi in contatto gratuitamente con me, i link sono in descrizione. Per il resto io alla fine dei miei video, come sempre, vi auguro il meglio e solo il meglio e vi saluto fino al prossimo video. Mamma mia, devo fare uno psicocrimine, siamo ad aprile e io ancora non ho fatto uno psicocrimine nel 2021, dovrò perdere il titolo di psicocriminale tra poco. Ciao, ciao, ciao ciao.